a bella a tutti raga qui è Gio siamo di nuovo sulla pixelmon quest'oggi siamo in compagnia di mario questo essere qui bene oggi io volevo allenarvi con quei pokemon e poi rivolgere il microvile che ho già a livello 25 in confronto a ieri ho esplato un altro po' di pokemon e ho già una lotta iniziamo con una bella lotta dai Ekans in seguimento ed è morto dai non sai che non sai cosa sei fatto dai z che sei morto sei morto dai z adesso come sei morto ah se muogevi che mandavi lui più ciove in un colpo solo vai a servimento e sei morto perché il servimento è sempre efficace dove sto proprio? vabbè dai Emperos la mia bestia diciamo ora adesso si muoge se mi ha questo neanche poi conto un shock e questo qua cambia tanto sei morto non è è non è non è non è non è io voglio marco bass b apposto pasto il cibo no l'uomo campagna torscia sono concentrato and they set up posto il colpo di fongo ma non ho da amici bastiano io sono occhi tu sei bastiano bastiano e quello del pub il prese se stiamo si naturalmente non mi cacca nessuno e ora mi devono come mi devono chiamare metto in pausa e riprendo ciao ecco ricci di nuovo qua ragazzi stai aspettando amore pasto ma sto per i morti per si può naturalmente non mi cacca nessuno fino a mo quando ecco no cosa mi sto facendo quale riportiamo allora vabbè un po' roste quanti psa polpix ps quella che c'è scritto il suo atto tipo hp 82.8 questo cosa fa e l'avversario base di questa mostra che vengono sei piastro quanti sono rimasti la bomba sto al mare che ero quanti a capire per quanto per quanto mamma mia ahi ho mandato di rosso le tue la scuola con questo posto di mandato e moat o ah, ah, diverso il mio 25 mesi che ancora c'ho cinciao c'ho altre due bokeh tre cinciao ok, vado a vincere grazie a tutti quanto ti mancano ancora? eh, tutti hai perso ho vinto va a bokeh per ieri ho vinto vogliamo seguito non non è del signor nostro dai che tu dove vuoi questo come il bokeh ma bokeh ma bokeh fammi uno che mi ammazzi per favore te lo chiedo che mi stuffai basta che non mi digli il bokeh ma bokeh non mi dico dai li uccidi dai li uccidi no 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 io sono anche un piccolo come me 26 che hai adesso? no fuori tra curabile resto scuola ok dai 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 io ho trovato su trovate i la master polinacca una master polinacca? dov'è? tu l'hai detto è l'elettro della giacca Dov'è? Dov'è? Mi dice che non si sentono le ventole del tuo PC. PC, lo parlo. Eh vabbò, quando parlo si... Eh, ecco, buono. Fondato l'impressione, giusto? No. Sì, lo so cosa si stanno. Ecco, le mani. Perché sto girando? Girando che? Il PC. No. Quanto siamo di registrazione? Ma tu sei con il microfono o quello del PC? No. Ecco quale. Quello è del Polo. E' proprio sarà quello del PC. E' proprio tanto altro. Non cambia niente, la PC è a corso. Anzi, si sente meglio questo qui del ventolo. Senti, ma il box è privato, sì. Cosa? Il box è privato. Sì. Ok. Non ci metto, è come si. E' proprio che non so da me. E' cinciao. Cinciao che sa, perché altro. Ok. Vedo che diventare il problema più forte che a guardare, una cosa così. Ok. Ok, un'altra cosa di un'altra cosa. Max, non la posso dire. Mai da mangiare. Ma mi porti da qualche parte dove c'è da mangiare. Basta che c'è di te della prima città dal, ci vende, ci da, sia le cose che 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 da, sia le cose. Ma gratis? Sì, sì. Eh sì. Sippe. Non so, sì. Sì, sì. J'ai soldi. Sippe. Sì, sì. 8 livelli si a che livello si evolve cosa? si ginciavo ginciavo al livello non troppo 28? si la sera con me accostavamo già a livello pan devo fare sotto tavolo di gioco voglio non scettare quasi non c'è dove sono uscito per l'occhio? 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 lo mo rom ma saya merados che giocano dalla macchina alla sera ok ma il suo la città per i po ben di foglia dubbio qualità forza io esso per sé che il mondo un po' scelto vai si lo so che ho fatto una cazzata da andare sul tappo mi sono solicitato che cosa stai facendo? eh non c'avevo non potevo fare niente ma almeno stai accadendo si ce lo state accadendo il coso l'audio il tuo tutte e due si ecco raga che ne dite se andiamo in live ma in fatto ultima c'è molto per mai risparicolo volatone perciò per 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 c o pochino dopo e da qualche parte da qualche parte dimmi 184 64, 751, 52, 55. Che? l'ho cambiato capito piiii mi dai una poca mi voglio una poca poca che chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede che chiede mi chiede mi chiede x x x percola percocci vieni da me vieni da me tu ci risultati vieni da me non voglio sto cercando a porto vieni da 142 ma mi chiede il nome exposto coltivo e poi le sue le sue che città 7 e io mi sono boccato ho preso a piacere non lo sappiamo abbia fine per tempo altro contesto post 6 6 tipo dentro la mappa non c'è quello che bello question si però che non ci fai di ora sai? mi stai male che fai? vada quanti vada? dove sei allo spavane? e scia, vamo fare il cuore di ora ecco, giriti, giriti, giriti 4 donne un cazzo di spavaggio ma io che c'è uno che c'è stato chi? il mass death in cosmo non mi sta a segnare non mi sta a segnare guarda se l'ho perso ti piglio colpa tua non lo so sei tu guarda sei tu? ma dove c'è? cazzo vieni dai mi stai per favore solo questo ok ok cattolo noo shynix si vieni che tu non c'è il cuore di ora fio è meglio shynix no 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 allora ma cazzo mia ci sono quelli che mi ha la godo che ci hanno il parco che ci hanno il parco ciao non mi hanno dato niente abbiamo fatto il video che ci hanno fatto ma ci hanno dato le bistec questo è il schermin uuuu uuu vado a porti golden nuggets quattro past golden nuggets E tu se le puoi vendere? Non si trovano più il bordo di una volta La vita C'è un'altra Il corpo devo creare le mani Un po' Ma che sei per mio No sto con quello lì che vuole comporzionare della bandera No perchè ci fanno bene Dipende 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 a giubbiropoli 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 cappio inutile del mondo ma che serve in accentuato che cazzo serve su cosa? 3 io ne ho pericolico pericolico ahahah tipo quando il tuo corpo non sono bruciati e uscocci pericolico ok ok ecco qui e schicks davanti al centro esce alla casa del primo assi a sinistra nella minima questo posto assicuramento 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 no 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 si devi andare a casa e lo riettore altro no e poi mi dai un altro pokeball se no non è proprio perchè a livello 2 si confronto ci sono riettore altro povero la cazzo sei l'ho detto il risultato fa con le livello 9 sono set sono sempre più difficile mi chiede e l'ultimo poluzione la storia 4 it's the total best popolo e invece sono anche i miei non è vero come no, un canale non si chiama da poter portare se ci consigli minchia che botta di labbra io sono accanto al tizzoro mi accanto al tizzoro dove minchia sei? dove minchia sei? vuoi che signoro perdi? e dove sei? apri la mappa vedi dove vedi prima tu? e come faccio ad aprire la mappa? con x eh dove vedi prima tu? non lo so al centro pokemon eh quello rosso? si eh per sopra per sopra verso quella cosa blu enorme o dall'altra parte? apri la mappa ci deve essere praticamente una cosa buon sito a spiegare tu vai sempre per sopra aspetta dove sei? al nord o sud? non lo ha tu adesso al centro game che sto lottando a 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 o perché credo che solo allora tu sei al centro porto dice la cosa blu fuori fuori tutto fuori il pericolo e pericolo il porto del mondo la risoluzione della città pericolo 4.5 la posizione anche se lo per il popolo non ci preoccupare non ci preoccupare perchè non ci sa da niente e io prima di trovare in scienica oltre per il suo mire che l'abbiamo perso mi sa già storia e dove ho detto d'oreso è un'altra posizione 8 non sta a capire fermo e benessi appartamento verso sud verso sopra allora da lui che c'è te 4 chiamato amara l'ambra sempre no 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 non posso andare a vedere ma che ho perso Mario? veramente ecco ci mancava questo ma lo so super botta di lag una rare candy livello 32 attenzione una candy rara la trovata anche tu? dammela a me che mi serve per favore per favore per favore anche se mi sembra di altro a far salire i livelli di program mi servono che devo dopo aver visto come il program è tanta storia ecco sono 16 pro storia mi hanno 32 mi hanno 32 mi hanno 32 vieni qua con me vieni qua con me chi mi ha detto ti mi ha fatto mi ha detto né perfetto non tens per e tutto qui la posto la paura aiutato super posto da allora vai certo se il segreto che ho fatto di euro cielo perchè di grassi per i alti porti io so dove stavano al fatto l'opera dovrei trovare parte per tutto il mondo un pregine 15 un po anche a livello mi è voluto da un po' post il netball vieni qua vieni qua bravo ora c'è posto per questo per questo la città la città la città città per e di fatto l'articolo x24 was made by samar ma se non è qui in giro vedi quello sono io qua qua non devi fare il giro ok sono pochione di natura non c'è problema però si vanno a fare i posti più brutti un amore un amore ok certo so so due un amore ok 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 ma io a quanta stima di registrazione non lo so con fraps mi sono dimenticato di mettere i cronometri vabbè 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 k marzo vabbè vecchio vabbè no no d nessuno non no ma oltre porto ben poi but that point don't want to tempo 2 il mio salve a ma che mi serve per pagare e dove mi posso comprare le poca polli c'è un leone tau rossi 4 8.5 posto a mano che non so che non so che io ho portato a scopo a scopo baccaraccio un buon questi per i popoli tipo acqua per il punto di vista certezze per tutto io c'ho un aiello io ce l'ho una gialla una verde una vasta e posso fare la base segreta come faccio a convertire gli iron coin in bronze coin per quanto riguarda il mio 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 8 minuti per la stanza dove sei te? dove sei Joe? Joe? per quanto riguarda il popolo market mi si è chiuso in l'auto il apposto via qui il video bella a tutti ragazzi ok ciao grazie e al prossimo video ciao ciao bella a tutti